Si dicono costretti a restare barricati in casa nonostante il caldo per evitare che insetti e ratti entrino nei loro appartamenti, così come la puzza, nausea, bonda. È la denuncia che arriva alla nostra rubrica Ufficio Reclami da alcuni residenti dell'area dell'ex scallo ferroviario di Corso Vittorio Emanuele ad Angri. Dito puntato contro la sporcizia che è nel parcheggio colpito nelle scorse settimane da un incendio e nell'area circostante. Dai vigili urbani ai carabinieri al NOE mi sono rivolto all'assessore di riferimento al sindaco i quali hanno detto che io dicevo cose menzogniere perché l'aria era stata bonificata a loro dire però quello che si vede è ben altro. Tutto ciò è rimasto invariato dal 2017 quando l'aria è stata tra virgolette riconsegnata al comune avendo smesso la sua funzione di cantiere quando RFI ha fatto questa strada. Da allora è rimasta così abbandonata, così dismessa e noi abbiamo ratti, mosche, zanzare, scarafaggi in ogni dove. Le mosche ogni presente oltre la puzza e quant'altro si può pensare con una discarica del genere. Venerdì scorso, otto giorni fa, giorno 21, c'è stato un incendio, il giorno successivo sono ritornati i pompieri perché nella notte ha ripreso fuoco, però da allora nessuno, nessuno, continua a dire, nessuno si è interessato al problema. Io sinceramente sono stufo di combattere contro queste persone, sono stufo di segnalare perché non c'è nessuno di riferimento, nessuna carica istituzionale di riferimento è venuta qui sul posto, oltre ai pompieri. Io non chiedo nulla, io per me non voglio nulla, io a casa mia sto bene, voglio soltanto che io a casa mia non possa respirare quest'aria puzzolente da cinque anni, da cinque anni. Questo è quello che voglio, non voglio nient'altro.